Lasciate le porte aperte. Sì bene, ti confermo ancora le porte aperte. Parno 1? Avanti. Ci sono problemi a Piazza Ravenna, sono scesi prima di Piazza Ravenna, se no pullman fermi. Non sono scesi prima di Piazza Ravenna, sono scesi prima di Piazza Ravenna. Ora ti dio la targa. Sì, ma il pullman è sempre in movimento. Si confermo, ora c'è la volante davanti, penso sia la straordinaria 1, penso, non lo so. Tutti in Piazza Ravenna. 26, ti confermo, la straordinaria 1 li ho agganciati in via Retina. Sì, ti stai prendendo e portando a Piazza Sud? Sì, confermo. Sì, sono tutti incappucciati col passamontagna, tutti davanti e attorno all'autista. Io so che intenzioni hanno questi, eh. Saranno anche distaccati dalla straordinaria 1. Stradinaria 2, avanti dalla straordinaria 1. Siamo sul viadotto, siamo ora allo svingolo di via l'Europa. Il pullman è dietro di noi e l'autista non cammina. Confermo, sono tutti incappucciati e non fanno camminare l'autista. Stanno scendendo tutti dai pullman, anche dietro, eh, attenzione. 26, straordinaria 2. Se riusciamo a far mandare via gli autobus che camminano, perché qui stanno a scendere tutti dagli altri autobus, eh. Tutti incappucciati, eh, anche dagli altri autobus. 26 da Giglio 13. Avanti. Sì, allora ti confermo la nota di poco fa. Io sono qui al casello, sono scesi tutti dai pullman, qualcuno con passamontagne, qualcuno con dei bastoni, cinture, eccetera.